Quella tra Movimento 5 Stelle e Comunità Ebraica non è l'unica polemica su quanto sta accadendo in Israele. La sindaca di Brescia ha revocato l'invito in città al ricercatore Patrick Zaki per la giornata inaugurale del Festival della Pace, dopo le sue parole contro il premier israeliano. Ora si discute della sua presenza lunedì al Teatro Parenti di Milano. Alessandra Costa. Si dice, sì non è il momento di ascoltare quel signore perché ha fatto una dichiarazione che non è corretta. O lo si ascolta e si ribatte, e si ribatte, e si hanno argomenti per ribattere, o non lo si fa e non lo si fa. Andrea Roussama non cita Patrick Zaki, ma è con forza che difende la scelta di andare avanti. Il Festival Tradizione e Creatività, Energie da Tel Aviv, al Parenti si farà teatro, musica, danza e incontri dal 16 ottobre al 20 dicembre. Proprio lunedì Zaki è atteso per parlare del suo libro Sogni e illusioni di libertà. Dopo che su Facebook l'attivista egiziano ha definito il premier israeliano serial killer, sono arrivate però disdette per la presentazione del libro. Il terrorismo vuole proprio questo, dice Shammah. Certo, qualcuno si deve prendere la responsabilità se i giovani in una scuola identificano Hamas con la causa palestinese. La convivenza è ovvia e non può non esserci. Vorrei che fosse chiaro. Una cosa è dire, non parlo con Hamas, una cosa è dire che dobbiamo vivere insieme. Questo è assolutamente evidente. Il teatro non è un luogo di risposte, è un luogo di domande. Le risposte hanno i politici, loro hanno tutte le risposte. Con il rabbino Arbib, lo scrittore drammaturgo Roy Henn è supervisore artistico del festival, parla da Tel Aviv. E da Israele arrivano anche le voci di artisti invitati che confermano la volontà di esserci. Poi il teatro, poi la cultura sottrarsi alla pressione della guerra. Il primo banco di prova arriva lunedì. Poi il teatro, poi la cultura sottrarsi alla pressione della guerra.